con un treno speciale proveniente da Forlì sono giunte alla stazione di Santa Palomba di Roma le 40 famiglie romagnole destinate al nuovo centro dell'agroredento, Comezia. Le famiglie composte di 260 persone provenienti tutte dalla zona danneggiata dall'alluvione della scorsa primavera dopo aver rapidamente scaricate le masserizie e preso una rifezione offerta loro nella stazione stessa hanno proseguito verso i diversi poderi a mezzo di autocarri del reggio esercito la prima casa colonica del primo podere è stata consegnata alla famiglia Boattini di Rocca San Casciano Grazie a tutti!